Dopo la vittoria del campionato e la conquista della Coppa Emilia, sempre dagli 11 metri arriva il successo nella Supercoppa Emiliano-Romagnola. Una partita giocata davanti al numeroso pubblico, organizzata col contributo dell'associazione opinionistica Quarto Tempo, con incasso destinato alla beneficenza. L'atmosfera è quella da clima familiare, bambini del lanzolavino calcio che giocano e che preparano l'ingresso in campo con i calciatori. Piuttosto, partita iniziata con qualche minuto di ritardo per aspettare il pubblico più caldo, ovviamente quello del Rimini, mentre Richiuti ne approfitta per salutare gli amici di sempre, i tifosi di sempre che forse per l'ultima volta vedrà e vivrà da calciatore. Premiazioni che avvengono prima del fischio finale con le due contendenti che ricevono le coppie conquistate per la vittoria nel girone A, Carpaneto, e quella del girone B, i Rimini. Direzione arbitrale terna bolognese affidata nella fattispecie a Gabriele Petta, agli assistenti Riccardo Fabri e Silvia Marzocchi. Giornata calda da clima estivo e non potrebbe essere altrimenti. Richiuto e ciaccato parte dalla panchina. In avanti spazio a Cicari vince alle spalle di Allotti, febbricitante e Buonaventura, alla ricerca dell'ennesimo gol di stagione. Gasparotto viene schierato nell'undici titolare. Il Carpaneto, dopo essersi aggiudicato in campionato con un più 10 sulla seconda, cerca l'impresa, mentre in Rimini i triplete, dopo la vittoria di Coppa Emilia, è in campionato. Tra l'altro sfiorata la quota 100 con raccolta punti, fermatasi da parte dei Biancorossi, da 98 lunghezze. Buon impatto dei Rimini sul match con Buonaventura che calcia alto dopo essere stato servito da un compagno. Carpaneto che attende Rimini che affonda con Cicari, vince l'attaccante, riceve il paro da Guiebre ma scarica alto. L'ex Amarino si ripete dalla distanza ma per Corradi è un gioco da ragazzi bloccare la sfera. Il Rimini diventa schiacciassassi, gioca in soltezza, Allotti lascia passare il pallone per Buonaventura che a sua volta serve Cicari vici che spara alle stelle. Il numero 10 ricambi in favore a parte del d'attacco ma Buonaventura di testa non inquadra il bersaglio. Primo sussuto del Carpaneto con un tiro dalla distanza di Mazzera, Mascotti neutralizza. Prima della mezz'ora con l'attento il colpo da calcio piazzato, Mascotti accompagna il pallone con lo sguardo sul fondo. Momento positivo per la Vigor che prova a colpire Cossandrini ma la mira è da dimenticare. Gli uomini di Mantelli protestano quando Minasola viene toccato in area di rigore ma Petter di Bologna lascia proseguire. Il Rimini torna a respirare quando Canesecchi recupera un pallone destinato sul fondo. Mette al centro Buonaventura fa da sponda per la Lotti che lascia partire un tiro a giro da dimenticare. I tifosi biancorussi capiscono il momento di tensione ma continuano ad incitare i propri beniamini. Proprio sotto il loro settore, Guiliebre scalda il motore, si involla verso l'area avversaria ma Corradi ipnotizza la sua conclusione. Sulla ribattuta arriva una comoda chiamata ad opera di Buonaventura. In crisi di tempo, Bacchiocchi cerca a gruare il personale senza trovare fortuna mentre Girometta manca di precisione. Quella che trova dalla parte opposta nuovamente Bacchiocchi ma senza incidere. Squadra riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa, Cola da calcio piazzato continua a peccare di precisione ma Fumasoli si fuma in un colpo solo l'intero pacchetto difensivo dei Rimini. Trovando sulla propria strada Scotti a dimettere lo slogan. Il fumo non c'è gravemente la salute ed ecco che il tiro diviene un semplice pacchetto di sigarette gettate in corna dal portiere biancorosso. Spazio ai tifosi sulle tribune si vedono i bambini curiositi. Il solito caloroso pubblico biancorosso con bandiere sventolate in maniera singola e in coppia. Si continua a cantare ed incitare anche se la partita non offre particolari emozioni. Emozioni che spariscono per alcuni minuti prima che da una rimessa il limpale nell'avversaria favorisca il carpaneto. Ma colla da pochi centimetri sbaglia la più incredibile delle occasioni capitata sottomisura. Innoi intanto Valeriani prova a scuotere i suoi ma al momento della battuta arriva scordinato come non mai. Cicarevic dall'angolo innesca questa volta a Bonaventura colpo di testa ma con radi blocca senza affanni. Barba dall'altra parte pennello dal traiettore che chiede solo la passata di rasoio ad opera del compagno di squadra Franchi che colpisce sì il pallone col viso ma malamente. A 10 dal termine assistiamo all'ingresso di Adnan Ricchiuti che arrivava da un problema muscolare avvertito nell'allenamento del mercoledì. Il Cico gioca appena 60 secondi per poi lasciare posto a Moretti. Si vede non sta bene. Allora ecco che gli ultimi secondi servono per decretare il fischio finale 0-0 e si va dunque ai rigori. Nell'attesa Mastro Nicola e Mantelli pallano davanti alle proprie panchine. La tensione sale alle stelle ma tra i rigoristi viene indicato anche Valeriani che aveva sbagliato un rigore decisivo con il ruolo ma poi vedremo che diverrà match winner. La sequenza non inizia nei migliori dei modi per ambeddure le formazioni. Lucci trova sulla propria strada Francesco Scotti mentre Bonaventura il palo a Negalli la gioia dei gol. Gli altri rigoristi non sbagliano né angolo né tiro. Scotti e Corradi non arrivano a compiere il miracolo. Quindi dal dischetto si prosegue fino al quinto rigore quando Franchi cercando lo scavetto della vita si accorge di aver fatto forse un errore di valutazione. Scotti e Sutta ma non farsi pregare è proprio Luca Valeriani che con la valigia in mano un'estate fa fa volare al cielo. I colori bianco-rossi, triplete seguito e gioia incontenibile, festeggiamenti, premiazioni, riconoscimenti a non finire e finalmente la coppa alzata al cielo. Quasi a dire che finalmente quel disco è stato cambiato. Grazie a tutti.